OST 2021, la fiera della ripartenza continua. Ci troviamo allo stand della Bottega SPA, una cantina vinicola che si trova nei pressi di Conegliano e che è presente in ben 150 paesi del mondo. Ci troviamo in compagnia di Nicole Geromel Bottega, la responsabile commerciale dell'azienda. Nicole, benvenuta. Grazie mille, grazie per questa intervista e grazie per farci fare questo intervento. Come hai anticipato, noi siamo una cantina di stilleria con 400 anni di storia, infatti le nostre origini risalgono al 1600 quando Andrea Bottega, uno dei nostri antenati, continuava le viti in una delle più belle zone del Prosecco a Refrontolo, sulle colline di Refrontolo. Dopodiché la famiglia Bottega si è sempre occupata di vino. Negli anni 20 Domenico Bottega era un commerciante di vino e poi Aldo Bottega negli anni 70 ha fondato la propria realtà, che all'inizio era una piccola distilleria e che poi grazie all'intervento di Sandro Stefano e Barbara Bottega è arrivata a quello che è oggi, quindi un'azienda riconosciuta in 150 paesi, conosciuta in tutto il mondo per il suo design esclusivo, per i prodotti di prima qualità e soprattutto per essere un'azienda 100% sostenibile. 400 anni di storia parlano per vostro conto, la serietà, la continuità, la bontà dei prodotti realizzati e riconosciuti in 150 paesi del mondo fanno di Bottega S.P.A. una delle cantine più antiche del mondo. Quali sono i prodotti che voi proponete al mercato in questo momento? Allora, noi proponiamo sicuramente i nostri spumanti, ma in particolare quest'anno il prodotto dell'anno è il nostro Prosecco Rosè. Abbiamo in particolare realizzato una linea premium che ora vi faccio vedere. Questa è la bottiglia, come potete vedere ha un packaging accattivante, un design unico ed esclusivo, è una bottiglia verniciata ad acqua, quindi sicuramente nel pieno rispetto dell'ambiente e della filosofia della nostra azienda. Si tratta di un Prosecco Doc Brut Rosè, 85% di glera, quindi l'uva che viene utilizzata per il Prosecco e 15% Pinot Noir. Un blend incredibile che dà dei sentori, un bouquet sicuramente inebriante. Per esempio abbiamo i sentori della glera che possono essere la mela, la frutta a polpa bianca in generale, ma anche per esempio la fragolina di bosco che deriva proprio dal Pinot Noir. Anche il gusto è molto cremoso, una sensazione vellutata e sicuramente un vino di corpo. Questo grazie appunto alla passione dei nostri enologi. Abbiamo un team di 20 enologi che ogni giorno studiano come sviluppare e migliorare i nostri prodotti e appunto in particolare anche il processo di creomacerazione a freddo che ci permette di estrarre gli aromi migliori e dare un corpo sicuramente al vino. Nicole, a chi è rivolta la vostra offerta? Questa offerta è rivolta a tutti in generale, ci proponiamo un vasto pubblico, sicuramente può essere molto più accattivante per un pubblico femminile visto il colore, però sicuramente per tutti i millennials anche sicuramente è un'ottima bottiglia e quindi sì, ci proponiamo comunque a un pubblico molto elevato. Anche per gli uomini comunque sta riscuotendo un grandissimo successo qui. E qui stiamo parlando dei consumatori, nel vostro caso siete a host per proporre i vostri prodotti suppongo addetti ai lavori, grossisti, rivenditori? Sì, siamo qui a host per creare nuovi contatti, appunto siamo sempre alla ricerca di migliorare ovviamente il nostro mercato e alla ricerca di nuovi clienti e sicuramente appunto essendo poi presenti in 150 paesi puntiamo ovviamente a conquistare tutto il mondo con i nostri bellissimi e buonissimi prodotti. Chapeau perché io ho assaggiato prima uno dei vostri prosè che è davvero straordinario, non ho parole per descriverlo, leggerissimo, equilibrato, frizzante al punto giusto. Ebbene, per tutti coloro che desiderano avere maggiori informazioni e richiedere a voi appunto di entrare in contatto, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile scrivere per avere maggiori informazioni, un contatto e chissà diventare vostri clienti? Certo, potete sicuramente scrivere appunto al mio contatto email che è NicoleGeromel, chiocciolabottegaspa.com. Siamo un team sempre aperto alla ricerca di nuovi clienti e di nuovi mercati e di nuovi canali di distribuzione quindi sicuramente vi risponderemo subito e saremo ben lieti di accogliere le vostre richieste. Bene, grazie. Allora è il momento di mostrare questo gioiello nel calice che appunto state guardando. con la B di bottega in rilievo, quindi potete vedere. Come potete vedere il colore è un colore rosa madreperla, è lo stesso colore che ti aspetti quando appunto vedi la bottiglia, ha un perlage fine e persistente, ha l'olfatto appunto, il bouquet è molto intenso, abbiamo le note di frutta bianca della glera, di fiori bianchi, la fragolina di bosco e appunto anche al gusto direi facciamo un cin e ce lo gustiamo. E allora noi ci gustiamo questo strepitoso rosè. Grazie, grazie Nicole. Grazie a voi.